Arriverà Renzi la prossima settimana a accompagnarlo in una parte del suo giro. Cosa può dare un po' alla causa lombarda? Renzi è una delle componenti del Partito Democratico. Sappiamo che nel nord Italia e in modo particolare in alcune zone della regione Lombardia il suo messaggio, la sua proposta che compone le proposte del Partito Democratico ha un particolare seguito e trovo assolutamente normale e auspicabile che voglia essere presente qui dove si decidono i futuri del paese, dove si decide se la Lombardia deve rimanere in Europa, dove si decide se l'Italia deve rimanere in Europa. Con l'arrivo di Renzi non ha paura che poi vengano fuori nuove polemiche su contatti con l'alta finanza e cose del genere? Ma non c'è nessuna ragione di polemiche di questo genere. Queste sono le perverse fantasie di alcuni che non hanno proprio ragione di essere neppure ripetute.